Nell'ambito del progetto Open Data Campania un'azione fondamentale è quella dell'empowerment, quindi del rafforzamento delle competenze dei dipendenti della regione Campania. Per questo nasce Accademia Open Data Campania, un percorso formativo di attività in presenza e online che vedrà coinvolti nei prossimi tre mesi dirigenti e funzionari che sono partecipi di questo processo di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico di regione Campania. Il percorso formativo è articolato per garantire l'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di Open Data e per fornire tutti gli strumenti utili per liberare i dati in maniera consapevole, con qualità e nel rispetto delle esigenze dei cittadini e della collettività. Il percorso si articola in attività in presenza attraverso seminari, laboratori pratici, sull'utilizzo del portale, sulle tecniche di data visualization e di pubblicazione dei dati. È una serie di attività di formazione online sulla piattaforma Moodle all'interno del portale di Open Data Campania con video lezioni, webinar, materiale formativo che è possibile consultare e utilizzare all'interno della piattaforma. Saranno messe a disposizione dei materiali di approfondimento e sarà possibile svolgere dei test finali per l'acquisizione delle competenze.